Pronti? Pronti non è una corsa ma è un moto incontro gastronomico. Il sindaco di Sudiano Antonio De Bari alza la bandiera, scacchi e poi via verso Talla. Il tutto grazie a un motoclub stagionato ma pieno di vigore con un presidente che ha festeggiato i 70 anni ma non li dimostra con un ringo che non è star ma forse è una star per i tanti motociclisti in Arley. Un motoclub che vola in alto come un condor e ogni anno porta su piano in epoca della festa di fine estate tantissimi appassionati di due ruote. Anche qui ruote stagionate che raccontano la storia dell'Italia dal mondo agonistico alla vita quotidiana. Moto e vespe che non pungono ma si fanno notare e poi l'oggi dalle mitiche Arley a quelle del mototurismo a fuoristrada. O forse è meglio dire, un tempo le moto erano principalmente di due tipi, le moto ad uso stradale e le moto ad uso fuoristrada. Oggi queste due categorie non sono sufficienti a definire il mondo motociclistico moderno. Col passare degli anni le moto si sono evolute, differenziate nello stile e nella tecnica, in modo così da soddisfare tutti quanti. Tutto questo vissuto da un motoclub che ha fatto la storia nel nostro territorio. È il condor. Tutto questo vissuto da un motoclub che ha fatto la storia nel nostro territorio. Paolo Carga, presidente del motoclub Condor, è in questo caso una storia che si rinnova e un appuntamento che si rinnova. Quanti anni sono che fate questo motoraduno? È in un gastronomio? Allora, diciamo che sono tantissimi anni che l'abbiamo fatto in precedenza con altri motoclub, che lo facciamo noi da soli, sono 16 anni praticamente, sono tanti. Quello che fa estremamente piacere è che è una forma che piace perché vediamo che tutti gli anni, come quest'anno, ne aumenta sempre una decina, una ventina e questo ci fa molto piacere. Diciamo che quest'anno sono venuti in tanti nelle regioni periferiche, la Toscana, specialmente la Romagna. Vedo che sono rimasti felicissimi di quello che l'abbiamo dato fino ad ora, ora c'è anche il pranzo che sarà un pranzo ricco e sicuramente rimarranno estremamente contenti. Noi siamo felicissimi perché ovviamente avendo lavorato già diverso tempo e speso abbastanza, questo è un ringraziamento che loro ci fanno e siamo molto contenti. Vorrei dire una cosa che tutti gli anni la dico, il nostro motoclub è dal 1969 che esiste, però purtroppo non ci sono ricambi, non ci sono ragazzi giovani che vengono il venerdì, una sera, due sere, qualche volta o quando hanno bisogno, però non riusciamo a coinvolgere dei giovani nella nostra struttura che noi saremo estremamente felici di potergliela cedere e dandogli anche la nostra esperienza e il nostro aiuto. E dopo 50 anni, che sono quasi 50 anni, sarebbe anche giusto trovare dei giovani per portare avanti una storia che a Subbiano penso sia, c'era qualcuno che diceva che era un vanto, però una soddisfazione sicuramente lo è. Speriamo che qualche ragazzo riesca a entrare nel nostro gruppo e tirare avanti questa bella esperienza. Diciamo che il mondo è un po' cambiato, c'è molto individualismo più che aggregazionismo direi io, quindi chi va in moto c'è un motore ad uno, ci vado, punto e basta. Una volta partivate in gruppo come motoclub Condor in questo caso, oggi invece ognuno fa da sé, ecco questo credo che sia un po' cambiato no il mondo? Sì, noi abbiamo provato anche istituendo con tanta volontà una scuola per andare in moto, cosa consisteva? Che la domenica potevano venire con noi, con la Vespina, con quello che gli pare e cercavamo di fargli capire quanto è bella la moto, che la moto non è per correre, assolutamente, la moto è bella perché uno deve godere il panorama, deve godere tante cose, si deve prendere il cappuccino in cima a una salita che si conoscono tante persone che vengono magari dall'altra parte. Sì, sono venuti i primi tempi, 7, 8, 10, dopo 5, 4, 3, 2, 1 e poi è finita. L'iniziativa cerchiamo di farle, però non riusciamo a stringere niente, ecco, dico la verità, non so per quale motivo, forse il motivo è anche quello di io, è cambiata la società, certo, se facesse un corso di iPhone o telefonini o qualcosa del genere sarebbero tutti lì a... La cosa bella è che però, per esempio, qui siamo nella zona della Romagna, il rapporto che si è creato con una persona come Ringo, in pratica, Caneschi, tanto per dirlo, fa sì che proprio, lui ci parte la sera, fanno le notti, tornano a tocco alle 2, alle 3, vanno a mangiare con loro, quindi rientrano e questa forma di amicizia a due ruote ha portato naturalmente, sicuramente anche vivacità, no, credo? Diciamo che il successo del raduno sicuramente per un buon 70-80% è il merito di Ringo. E è giovane. Sì, sì, diciamo che è giovane, giovane è estremamente impegnato, a noi ci fa molto piacere, è un trainer proprio eccezionale, ha la moto nel sangue. È una moto nel sangue. È vero. Sei un trainer eccezionale. Mi ci impegno. Di notte con l'altro tuo collega dell'Arley, che quando può, va a portare i pianoforti, vanno a mangiare al tocco di notte, rientrano alle 4. Così, fresco, mandrioli, poi mandrioli, non mandrioli, è più fresco e va benissimo, così. Sentite, ma so che voi volete fare anche un ringraziamento, dare delle targhe, è vero Paolo? Sì, quest'anno abbiamo fatto, il nostro raduno non c'è riconoscimenti di nessun genere, però abbiamo fatto delle targhettine e abbiamo pensato che da ora in poi, ogni anno, si dà un riconoscimento a tre motoclub. Ogni anno tre motoclub. Quest'anno abbiamo scelto tre motoclub, che sono motoclub Benelli di Sant'Angelo Invato, che sono andati via per un problema. Poi c'è il motoclub La Torre, che sono loro, ora si chiamano, e il motoclub Paolo Tordi. Diciamo, non è una premiazione per dire quello è il più bravo, quella è la moto più bella, la moto più antica, quello che viene più da lontano, no, è un riconoscimento al gruppo. E basta. Sono sempre venuti, sono sempre venuti, insomma, è bene ringraziarli con un minimo di niente. Un ricordarsi che c'è sempre il motoclub Condor e voi ci sarete quando loro faranno i motoraduni. Giusto. Motoclub La Torre, da dove arriva? Da Alfonsina in provincia di Ravenna, il motoclub è sempre ospitale, sempre generosi, con noi è il meglio della provincia di Romagna. Dopo c'è un altro gruppo, passa la seconda, ma insomma noi sono il meglio. Sono Lecchino, ho fatto parte da Lecchino. E lei chi è? Lei è Romina Bravetti, presidente del motoclub La Torre di Alfonsina. Una donna. Una donna, presidente. Invece noi un uomo vecchio, pavoso, la Romagna, la Torre, la Romina. A noi ci mancano questi esponenti qui però, eh. A noi ci manca l'allegria della Romagna. Sì, sì. Questa è quella che sia garantita. Quella ve la garantiamo sempre. Allora, senti, il fatto che ogni anno ci ritroviamo comunque qui con questa amicizia che vi lega anche tramite una persona che appunto è il Caneschi. Com'è questa giornata oggi? Diversa? Avete fatto un altro giro? Com'è andata? No, diciamo che la ricetta è consolidata. Tutte le cose che si fanno qui a Subbiano sono bellissime. Dà una colazione meravigliosa. Stamattina anche veramente colazione deliziosa. Un aperitivo panino con porchetta e cacio, formaggio da noi e parmigiano. Qui non lo so, formaggio, l'amicizia, bellissimo. Noi, non era a caso, parmigiano non era pecorino. Pecorino, è formaggio. Noi abbiamo il parmigiano. Bene, allora facciamo questo passaggio di mano. La contiamo proprio così ufficialmente. Mano, naturalmente, come si fa nelle cose più classiche. No, ma puoi farlo ora, eh. Così a me lo suggelliamo. Grazie, naturalmente, a Motoclanci. Romagna ne voglio un tre. Non è un numero perfetto. Quindi grazie, naturalmente, per la presenza e grazie per la partecipazione, sempre con questa allegria, ragazzi. Grandi. Tre, due, uno. Brillo! Grandi. E adesso? E' un motoclub di Cesena, che anche loro sono sempre ospitali, si fanno sempre delle belle raduni, delle belle cose. Anche la settimana scorsa ero da loro, un bel raduno. E niente, che vogliamo dare questo ringraziamento al motoclub. Allora, qui che abbiamo? Scusate, vicepresidente del motoclub Paolo Tordi. Ringrazio tutti i motoclub Condor, che sono molto ospitali e gentili. Veniamo molto volentieri, perché ci scambiamo un po' le prestazioni, diciamo così. Volevo dire una cosa, il motoclub è Paolo Tordi, è nato ovviamente, quando è morto Paolo Tordi. Paolo Tordi era un pilota generoso, veramente molto buono e bravo. Quando lui correva, specialmente negli ultimi due anni, che le moto gliele forniva un nostro amico che non c'è più di Laverna, era molto legato anche al nostro motoclub. E questo ci fa piacere, che loro, alle nostre manifestazioni, vengono. Pensate che Paolo Targa si è anche emozionato, perché questo legame è sicuramente sentito e questa gioia, naturalmente, nel vedervi qui, attraverso proprio questa amicizia che continua, penso che sia bello. Specialmente quest'anno, che ricorre il quarantennale della morte di Paolo Tordi, in un'occasione noi abbiamo organizzato un altro roduno, abbiamo inaugurato un monumento nel centro di Cesena e più di così non potevamo fare. Potete fare molto e l'avete fatto, cioè il fatto del ricordo, perché ricordare chi ha fatto qualcosa nel mondo del motociclismo e l'ha fatto nel modo corretto, io credo che sia sempre buono. Sì, giattamente. Grazie. Sì, giattamente. Sì, giattamente. Sì, giattamente. Sì, giattamente. Sì, giattamente. Sì, giattamente.